benvenuti in questo nuovo video questi sono i miei risultati di trading system live questi sono il mio profitto quindi del 2,5 per cento mi tengo davvero soddisfatto di tale performance ci sono state parecchie occasioni all'interno del mercato valutario del forex ho analizzato sempre il sentiment come potete notare col coloro che stanno acquistando 48 per cento e coloro che stanno vendendo 52 per cento però tutto sommato è ancora laterale quindi sale e scende allo stesso tempo quindi se uno apre posizione sia call sia put con un determinato stop loss e un giusto take profit si può essere allo stesso tempo profittevoli quindi aprire trend uguali e contrario opposti sempre secondo altri metodi tanto studio tante analisi dei mercati e di varie scelte dei vari presidenti i vari ministri soprattutto il ministro dell'economia e i vari capi di governo delle diverse nazioni e allora sì che si può fare un bilancio della situazione attuale e in questo momento il mio trend è rialzista quindi la mia analisi di mercato ha funzionato creato un'altra Grazie a tutti